L'America è incredibilmente importante per la Pininfarina al punto tale che dieci anni fa abbiamo aperto un ufficio e dopo un paio di anni abbiamo portato anche tutta la nostra squadra, insomma parte della nostra squadra del delivery in maniera tale di essere più vicino al cliente. È molto affascinante, dopo qualche anno abbiamo aperto anche una sede a New York, quindi abbiamo adesso Miami e New York come i due uffici e con un pensiero ancora di espandere. Le Americas è dove noi guardiamo e portiamo il nostro know-how ma allo stesso tempo anche impariamo tanto dal sistema americano, quindi questo mix è vincente. Sono molto onorato e felice di essere stato invitato in questa occasione, sono momenti importantissimi credo per l'Italia, unire un know-how diverso, fare forza insieme e su questo penso che l'Italia Trade Agency sta facendo un lavoro incredibile, quindi siamo molto grati. È importante quando si va all'estero, quando si è in giro ma anche in Italia stessa, io credo che anche tra concorrenti comunque essere vicini, essere insieme stiamo portando tutti lo stesso messaggio e queste occasioni ci aiutano in una maniera particolare a fare splendere i valori bellissimi del design italiano. Io otto anni fa ho deciso per l'azienda, mi sono spostato qui con tutta la famiglia nell'America e quindi far capire quanto è importante questo settore, questo ambiente, questo mercato. Siamo in forte crescita, uno dei mercati più importanti per la Pininfarina per quanto riguarda i non auto progetti, noi lavoriamo sulla nautica, sulla mobility in generale, ma anche sul product, sull'architettura, ecco l'architettura sta crescendo in una maniera incredibile, quindi è un'architettura con il brand, ma diciamo è un'architettura con la qualità, col pensiero, con questa qualità di vita, quindi molto interessante, siamo molto contenti, l'obiettivo è continuare a crescere qua negli Stati Uniti.